Entra in guardia, tieni il collo e entra in guardia. Ok, così. Non parte di baltare, le mani dietro a lui non servono a niente. Non parte di baltare. Ok, ok. Vai più avanti con le ginocchia, più avanti qui sotto lasciate con le ginocchia. Ok, ok. Locca il mio primo. Locca il mio braccio. Con entrambi le mani, con entrambi le mani da dove puoi partire. Sto per ripartire dal centro. Esattamente così, uguale. A cavalcioni, vai. Vai, 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 veloce. Vai, 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 vai. Oh, no, tienilo. Vai. Blocka il mio braccio, passa la gamba per il piano. Tiro, lo schermo. Il ginocchio sotto la chèmio. Ok, così. Ok. Top, 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 top. Ok. Ok.